Il modo migliore che ho a volte per capire quanto lontano siano a volte gli stereotipi che i giornali creano di ciascuno di noi, lo riesco a fare grazie a Pinuccio Tattarella. Scusate se per un attimo parlo di me. Io sono sempre dipinto come quello che ha i busti del Duce e ce l'ho, uno di mio padre me l'ha lasciato, non capisco perché dovrei buttarlo, non lo butterò mai come non butterei neanche se mi avesse lasciato Mao Tse Tung, è un'opera d'arte di Mao Tse Tung, mi terrei anche quella di Mao Tse Tung.